Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. La sua carriera dice che le sue squadre hanno giocato sempre un calcio particolarmente propositivo, organizzato, anche spettacolare a tratti. L'organico del Parma quest'anno presentava dei nomi, degli elementi di un certo calibro. Pensiamo a Giovinco, a Amaury, a Canreva, a Zaccardo e via, discorrendo. Come si spiega un campionato così complesso e così difficile per una squadra che ha comunque una cifra tecnica complessiva lodevole? Io innanzitutto vorrei dire che se sono a casa significa che ho commesso degli errori nella costruzione della squadra. E' normale che sono stati agli errori, a prescindere dal valore dei singoli sicuramente non sono riuscito a far attuare un tipo di gioco. Le cause sono tante, è inutile stare qui a dire quali sono perché si potrebbe pensare a scaricare errori. Io se sono qui significa che ho commesso tanti errori. L'unica cosa che devo fare in futuro è di non ripetere. Mi limito a dire questo sul parco. Mister, ha avuto un po' di difficoltà forse a far apprendere quello che è il suo tipo di calcio, la sua concezione tattica? O crede che magari le principali lacune di questa squadra si sono evidenziate magari sotto il profilo mentale e psicologico in alcuni tratti della stagione? Ma no, ma io ripeto il concetto espresso, ho già detto quello che dovevo dire sul parma, è inutile scendere nei particolari perché si rischia magari di scaricare su altri errori miei. Perché secondo me è giusto quando le cose non vanno bene sia l'allenatore maggiore responsabile e di conseguenza ho pagato io. Per cui è inutile stare qui ad entrare nei particolari, non conviene per niente. No, no, certo mister, non è sicuramente signorile e non è neanche il caso, visto che ancora c'è il campionato in corso. Il riferimento all'aspetto psicologico era più legato al fatto che magari c'è stato un momento del campionato in cui avete inanellato una serie di risultati positivi molto importanti, pensiamo insomma alla vittoria sonante sul campo della Juventus e forse lì qualcuno ha perso un po' la dimensione dei valori, di quello che doveva in realtà essere il vostro campionato. Insomma, l'osservazione era finalizzata a questo pensiero. Ah, ci può stare di tutto, quando le cose non riescono, non vanno per il soggetto. Allora, mister, parliamo a questo punto del Palermo, lì sicuramente potrà sciogliersi, non essendo parte in causa. Ecco, lei ha sicuramente visto sabato scorso la splendida vittoria contro il Napoli ed ha anche assistito alle traversie che quest'anno il Palermo ha vissuto, da Delio Rossi a Cerse Cosmi, poi si è tornati a Delio Rossi. Insomma, alla luce dei fatti, quelle sonore, è stato un provvedimento incauto, è stato un provvedimento infelice, da parte del Presidente Zampari. Alla luce dei fatti, però, diciamo che il Presidente le trova tutte e quando ci sono momenti di difficoltà, però è ritornato su tre fatti e quindi significa che è un segnale importante e riconosce anche qualche errore, se si fa un passo indietro, per cui credo che il Palermo è prima un calcio sempre propositivo, un calcio organizzato, per cui lo sta dimostrando anche il sospetto di squadre che ambiscono al titolo, come il Milan, il Coppa, come il Napoli, le ultime partite, per cui credo che Rossi stia facendo un ottimo lavoro. Lo dicono i risultati, lo dicono i fatti, ma soprattutto l'espressione di gioco. Dal punto di vista tecnico, mister, il pomo della discordia tra Rossi e Zamparini al corso di tutto l'anno è stata questa eccessiva vulnerabilità difensiva. Ecco, il Presidente la scriveva a torto ad una lacuna, ad un'incapacità dell'allenatore di allestire un'adeguata fase di non possesso, ma i fatti hanno dimostrato, se andiamo a vedere le caratteristiche dei singoli in questo organico, che è una squadra che ha un certo tipo di DNA, ovvero due esterni bassi particolarmente offensivi, un legista difensivo che ha piedi da trequartista come Bobo e poi giocatori fortemente portati dalla metà campo in su ad attaccare la porta avversaria. Forse solo Nocirino e Migliaccio sono i centrocampisti più votati alla fase di contenimento. Cioè, voglio dire, questa è una squadra nata per costruire, nata per attaccare e pazienza se subisce qualcosina in più? È una squadra spettacolare, è una squadra propositiva, è una squadra tecnica, credo che ci sia questa possibilità di fare tanti gol e di prendere qualcuno in giù, ma se l'emersione è maggiore il calcio lo dà quando ci sono i gol, quindi la gente va allo stadio perché preferisce un 3-3, un 4-4, un 1-0-0. Per cui, secondo me, è meglio così. Assolutamente, anche per il pubblico che si diverte, ovviamente il Palermo ha giocatori capaci di tirar fuori davvero delle giocate, dei colpi di straordinaria levatura tecnica e spesso riesce anche a fare un gol in più dell'avversario. Contro il Napoli, in particolar modo, questo poco equilibrio tra i reparti non si è visto, anzi si è visto una grande partecipazione di Hernandez, di Pastore, di Ilicis nella fase di non possesso. Questa è una squadra che ha lo spirito giusto in questo momento. Sì, sì, sono convinto di sì perché partecipi prima a difendere non loro, per cui il peggio libro c'è stato dall'inizio della fine, ma man mano che passava il tempo hanno avuto più spazi quando soprattutto è passato in vantaggio e potevano fare anche diversi gol perché si chiudevano bene e si partivano bene rischiando anche poco. Mister, le faccio una domanda facile. Qual è il giocatore del Palermo che calcisticamente la intriga e la fa innamorare di più? Lei è libero anche di sorprenderci, magari con una risposta che non sia la solita? No, è chiaro che quello che attrae maggiormente chi vede il calcio, chi vede la partita è il pastore, però è chiaro che per l'utilità della squadra ce ne sono tante. Ho visto in questi anni, per esempio, Nocerino ha avuto una modulazione eccezionale, per cui sono giocatori con qualità diverse, però sono giocatori importanti, gli spessori. Assolutamente sì. Manuela? Mister, giocando un po' a fare i pronostici, adesso per il Palermo c'è un importante obiettivo, la semifinale di Team Cup di ritorno contro il Milan. Ritiene che i rossonero possono arrivare in finale ed eventualmente addirittura raggiungere questo traguardo? Io credo che in questo momento hanno dimostrato una condizione ottima e l'hanno dimostrato, come ho detto prima, sia a Milano sia nella partita con Napoli. Il risultato dell'andata chiaramente favorisce anche il passaggio del Tuno, qualche percentuale in più giocando in casa e credo che il pubblico darà una spinta in più, per cui ci sono le premesse, però ci sono le premesse anche per arrivare, secondo me, al settimo posto, perché abbiamo ancora tutto da giocare. Ecco, Mister, lei ovviamente ha seguito da vicino, anche per tutto il campionato, chiaramente per motivi professionali, la stagione del Palermo. Ci riferivamo un po' a questi giovani talentuosi che sono un po' Croce e Delizia, il pubblico rossonero, ovvero Pastore, Ilicic ed Hernandez. Ecco, prendendo in esame questi tre, che lei ovviamente ha visto, hanno caratteristiche diverse, quali sono, secondo lei, gli aspetti maggiormente perfettibili? Ecco, dove devono crescere e completarsi per diventare veramente stelle da grandi squadre? Ma, secondo me, le qualità tecniche e le qualità fisiche sono importanti per questi giocatori. È chiaro che nell'arco di un anno possono avere qualche momento di pausa, come ce ne hanno anche i giocatori affermati, i giocatori che già giocano squadre di primissimo piano, che fanno sempre la Champions, per cui credo che per l'età che hanno, hanno sicuramente immagini notevoli di miglioramento, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista fisico, però io credo che sono pronti per far parte di una nostra squadra, soprattutto Pastore. Per quanto riguarda le dichiarazioni del Presidente Maurizio Zamparini, insomma, lei sa che il Presidente parla anche spesso da grande appassionato di calcio. Ecco, lui equipara il suo Palermo come valore all'Udinese e al Napoli. Ecco, forse dal punto di vista della completezza dell'organico e anche dell'esperienza quelle due squadre hanno qualcosina in più. Lei è d'accordo? Sì, probabilmente sì, però, ripeto, l'Udinese quest'anno ha avuto la grande maturazione di tanti giocatori, hanno avuto tante situazioni positive, sono stati bravi a mantenersi a un certo livello, però non credo che ci siano grandi differenze. Forse il Napoli è quella che è qualcosa in più, diciamo, rispetto a queste altre due squadre ha più esperienza, ecco, perché è una squadra anche, secondo me, come parmene, un po' nei titolari un po' più anni e così esperienza. E qui, a volte, quando si tratta di squadre che hanno tanti giovani in organico, fa paura di, in certi frangenti, di non essere continui, in certi tempi. Mister Mazzarri, Rossi e ovviamente Francesco Guidolin, i tre allenatori di queste squadre che giocano sicuramente un calcio estremamente gradevole. Ecco, come cultura, come concezione tattica, a quale dei tre si sente più vicino? Io credo di conoscere già la risposta. Me la dica a lei, io ancora ci devo pensare. Forse a Delio Rossi? Ma no, non lo so. Io dico che sono allenatori che fanno, che hanno fatto molto bene quest'anno e chiaramente hanno fatto giocare bene dal punto di vista tattico le cose squadre, ognuno ha le cose caratteristiche. Però la cosa che più conta è che, secondo me, abbiamo citato tre squadre che forse insieme a Milan e qualche altra squadra hanno espresso il calcio più bello. Assolutamente sì. Ricordiamo anche il Catania del mister Marino, quello che ha conquistato la promozione in Serie A, che giocava un calcio straordinario, anche la sua prima udinese, rubava davvero l'occhio. Squadra particolarmente sbarazzina. Io credo che nei tre anni di Udine siamo partiti male solo il terzo anno, i primi mesi, perché quando hai in organico 11 giocatori che si aspettano a fare il mondiale, infosciamente c'è un po' di gestione delle forze, per cui siamo partiti un po' malucce, però poi siamo andati in crescente. Perciò dico che il ciclo di lavoro a Udine è stato importante perché abbiamo fatto qualificazione nuova, siamo arrivati ai quarti di finale, l'anno dopo di Coppoverso abbiamo fatto 57-58 punti i primi due anni e soprattutto si sono valorizzati tantissimi giocatori. Misterio, io l'ho avvicinata a Delio Rossi perché ricordo che le sue squadre andavano a giocare a calcio su qualsiasi campo, giocavano un calcio particolarmente aggressivo, propositivo, anche bello dal punto di vista estetico e rischiavano qualcosina, quindi rispetto a Mazzarri e Guidolin che hanno qualche alchimia difensiva e forse speculativa in più, il suo era un calcio più temerario, più vicino a quello di Delio Rossi. Beh, se lo dice lei non è così, a me può fare solo piacere perché io la penso in questa maniera e come ho detto prima, poi dipende anche dei giocatori, delle qualità, dei giocatori che si allenano per fare un certo tipo di gioco, però è chiaro che io ho cercato sempre di proporre un calcio più positivo, a volte ci riesco, a volte meno, però come quest'anno, perché quest'anno purtroppo non sono riuscito a dare continuità alla squadra che ho allenato, era un'impronta continua del calcio che ho fatto, per cui il mio rammarico è questo, perché negli altri anni, anche quando ci sono momenti di difficoltà, probabilmente l'impronta c'è sempre di un certo tipo di gioco, quest'anno c'è stata la intermittenza, quindi significa che ho sbagliato io nel nostro corso tipo di calcio. Allora mister, velocissime, poi la salutiamo, ovviamente una lettura rapida del match di domenica prossima, non le chiediamo del Parma, ma le chiediamo del Palermo, ecco, nonostante insomma non ci siano più obiettivi di primissimo rilevo in campionato, sarà una partita vera e il Parma troverà un Palermo voglioso di allungare la striscia positiva, no? Mai credo anche che il Palermo abbia stimoli, perché ripeto, il settimo posto, se non si riuscisse ad entrare, a far parte, diciamo ad andare in finale di Coppa, c'è sempre il settimo posto e poi dico che gli stimoli ci sono e come, perché partecipare a una competizione europea è sempre una cosa importante, è sempre una vetrina, è sempre una crescita dei giocatori, perché si misurano con i giocatori a livello internazionale, per cui credo che gli stimoli ci sono utenti e sarà una partita equilibrativa. Mister, lei riuscirebbe a lavorare anche in un prossimo futuro con un presidente come Maurizio Zamparini, che sappiamo ama il confronto e l'interazione continua anche sotto il profilo tecnico con il proprio allenatore ed è una figura dalla personalità piuttosto debordante, i problemi con Delio Rossi, che è uno che ha grande culto del ruolo, grande autonomia, sono nati proprio per questo. Ecco, lei come riuscirebbe a convivere con un presidente come Zamparini? C'è una domanda di riservo? No, mister, faccia lei, insomma, provi a rispondere, provi a rispondere. Questa domanda posso rispondere nel momento in cui si posta qualcosa, ma evitiamo perché non c'è niente. Comunque, dico, è sempre meglio avere un presidente disposto a investire così innamorato della squadra come Zamparini? Certamente, quando metto la disposizione degli allenatori organici, va a riuscire a rispondere. Mister, noi ovviamente le facciamo un grandissimo in bocca al lupo, anche perché porta in alto il nome della Sicilia in tutto il panorama calcistico nazionale e speriamo di rivederla insomma in sella abbastanza presto, ovviamente in Serie A, perché è quella la categoria che le compete. Grazie. Grazie, buona sera.